per ogni bambino salute scuola uguaglianza protezione una torta di 60 candeline l'unicef compie quest'anno 60 anni e la nostra è una festa dedicata a quel mondo di sorrisi per tutti i bambini del mondo questa sera sulle magiche note del grande maestro Nino Rota cantore immortale delle emozioni di grandi e piccini l'unicef comitato di Bergamo vi invita a dedicare i bambini e a chi si prende cura di noi e di loro questa sera proprio da uno dei principali ambasciatori italiani l'etual della scala Roberto Bolle in punta di piedi con la sensibilità del grande artista che comincia il nostro racconto a tutti quanti benvenuti e buona serata cento piccole ballerine della scuola di danza Attitude di Serenella Barbieri cento piccole messaggere di serenità cento piccoli pagliacci un omaggio alla famiglia Rastelli storica eccellenza circense della nostra città e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sono venuti anche loro alla nostra festa accompagnati dal maestro dal chitarrista Stefano Mora e dalla pianista Denise Insonni Eccoli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti